Buonasera mister, Lela Casini, Radiolina. Primo tempo giocato bene dal Cagliari, non c'è nulla da dire, poi ha deciso l'episodio, una bellissima punizione di Maldini. Nella ripresa cosa è successo? Perché immagino che i cambi fossero per cercare di avere un po' più di brio, di precisione, di fantasia, invece addirittura il Cagliari praticamente non ha quasi tirato in porta. È vero, sì, abbiamo tirato in porta solo una volta e purtroppo stavamo in fuorigioco, se no il gol sarebbe stato buono. È vero, c'è mancato quel qualcosina in più che abbiamo solitamente. Peccato perché avevamo preparato bene la gara, sapevamo della qualità dei giocatori del Monza, del loro sistema di gioco, di come si trovavano ed eravamo stati molto bravi, compatti e tutto. Certo quando, non voglio accampare scuse, quando ti mancano poi giocatori che ti possono dare quel qualcosa in più in fase di rapidità, imprevedibilità e poi dopo a gioco lungo paghi. Però io ho fatto i complimenti alla squadra, quello che avevano da dare l'hanno dato contro una buonissima squadra perché appunto, come ha detto lei, nel primo tempo dove è stata partita vera non sono riusciti quasi mai a farci male e noi provavamo andando via in contropiede, in velocità, sulle ripartenze. Nel secondo tempo bisogna rischiare qualcosina in più per cercare di portare a casa il pareggio, non ci siamo riusciti. Abbiamo lasciato un pochino più di spazi a loro e sapendo che sugli esterni hanno giocatori molto bravi nell'uno contro uno, non essendo più compatti ecco che abbiamo sofferto qualcosina in più. Buon per noi che ci hanno permesso, gli errori che hanno avuto gli avversari nel non fare il secondo gol, ci hanno permesso di sperare fino in fondo. Sì, buonasera mister Roberto Pina 131, ci aiuta un po' anche a capire il momento dopo questa partita? Arrivavate da una serie di risultati utili, importanti nella corsa salvezza, è un pochino un passo indietro? Perché forse anche a livello di qualità e di cuore è un pochino sembrato fare un passo indietro. Se mi dite qualità posso anche, non lo accetto ma posso anche capirlo, qualità no. Noi abbiamo questa qualità, siamo fieri di questa qualità, non abbiamo fatto un passo indietro perché perdere 1-0 sul calcio di punizione contro il Monza, se mi fate questa domanda mi sa che non capite quanto è forte il Monza o credete che sia tanto forte il Cagliari. Noi siamo una buona squadra che lotta per la retrocessione, non dobbiamo perdere davanti a noi il focus che lotteremo e soffriremo in tutte le partite. Poi ci saranno le partite che puoi far qualcosina in più e le altre che ti arriva davanti una valanga. Per cui noi lo sappiamo e continueremo a lottare, questa è la cosa più importante. Volevamo far bene davanti a tutte le migliaia di sardi che sono venuti a sostenerci, ci dispiace non avergli dato una gioia, però siamo fieri perché è orgogliosi che tutto quello che avevamo l'abbiamo messo in campo, pur non facendo benissimo nella seconda parte. Buon pomeriggio, Mr. Luca Savarese, Radio Cross. Cosa gli piace di più del lavoro di Mr. Palladino e di questo Monza? Grazie. Mi piacciono tantissimo i giocatori che ha, non che voglia togliere qualcosa ai miei, però ha dei giocatori che hanno esperienza, gioventù e qualità. Oggi l'avevamo imbrigliati bene, certo su palle inattive non ci puoi fare niente, per cui da Maldini a Carboni per cambiare gioco, Colpani, Dani Mota, insomma ci hanno tutto, ci hanno tutto, è una bella squadra, sa giocare a calcio, ti sa aspettare, ti sa ripartire. Complimenti, complimenti a Raffaele perché ha tirato su proprio una bella squadra. Buonasera, Mr. Eccomi, Luca Zanda, Calcio Casteldu. Le chiedo, mi correga se sbaglio, il plan di inizio gara era lasciar giocare loro per andare di rimessa. Allora le chiedo, i cambi a cavallo da un tempo e l'altro, forse perché Macombu non le dava comunque quella qualità nell'uscita palla, le chiedo, magari con Prati voleva ambire a fare qualcosa di più? Sì, volevo fare qualcosa in più, anche perché Macombu per due allenamenti non c'è stato che è stato male e allora sapevo che non mi poteva dare il suo solito contributo, per cui finché l'ho visto discretamente bene, l'ho lasciato, alla fine del primo tempo l'ho cambiato. Buonasera, Mr. Lorenzo Bloise, Gianluca di Marzo.com. In termini di qualità e fantasia, quanto è mancato oggi Gianluca Gaetano? Ma sono mancati un pochettino tutti quei giocatori che mi danno quel rapporto imprevedibilità-velocità. È logico che è mancato Gaetano, può essere mancato Luvumbo, però io non mi piace mai parlare degli assenti, noi siamo questi, è una squadra compatta, quadrata. Il Monza è pervenuto al vantaggio alla fine del primo tempo, è stato un peccato, e questo è. Andrea Golizzi a fantapetere.com Ieri ha detto che la salvezza sarà sui 36-37 punti, mancano 9 partite e molte saranno contro Top Club. Quanto è deluso oggi di tornare a casa con zero, anche comunque dopo una buona prestazione, e se dopo la sosta ritroverà qualcuno? Grazie. Allora, non sono deluso, io sono, l'ho detto, soddisfatto della prova dei miei. Delusione e euforia sono due aggettivi che dobbiamo tirar fuori. Noi dobbiamo essere a martelli pneumatici e pensare sempre e soltanto alla salvezza che si deve conquistare soltanto grazie ai sacrifici di tutti quanti. credo, credo che per la prossima partita, visto che c'è la sosta, dovrei recuperare Mina, Gaetano e Luvumbo. Grazie. Max Rigeno, ForzaMunza.it Mister, lei è un uomo di grande saggezza e di grande equilibrio, un fuori classe tra gli allenatori. Le domando come si mantiene l'equilibrio nello spogliatoio da un punto di vista psicologico, oltre che atletico, in un momento così difficile, perché comunque la squadra nel primo tempo ha giocato molto bene, nel secondo forse è stata meno reattiva. La sua esperienza che cosa le dice per mantenere l'equilibrio e la tranquillità all'interno dello spogliatoio? Come stanno in questo momento i suoi giocatori? Sicuramente sono dispiaciuti e delusi, però ecco, io gli ho fatto i complimenti perché abbiamo fatto la partita che avevamo pensato. Certo che davanti a te hai una squadra che sa giocare a calcio, sa creare occasioni da gol, sicuramente qualcosina abbiamo sbagliato, però io non posso rimproverare nulla a questi ragazzi. Questi ragazzi sono giocatori che l'anno scorso sono riusciti a centrare la Serie A all'ultimo secondo e io l'ho detto dall'inizio del campionato, se ce la facciamo sarà per l'ultima partita. Per cui siamo vaccinati a questo tipo di campionato, non ci siamo arresi quando stavamo lontanissimi, non abbiamo peccato in euforia adesso che abbiamo tirato fuori la testa dall'acqua, sappiamo che affronteremo grandi squadre, però una alla volta vedremo quello che possiamo fare. Buonasera mister Angelo Fumagalli, Monza Cuore Biancorosso. Complimenti per la prestazione della sua squadra perché nonostante le defezioni avete chiuso molto bene le linee di passaggio concedendo pochissime azioni pericolose agli attaccanti del Monza. Detto questo le faccio una domanda, visto che ha fatto i complimenti a Palladino e alla sua squadra che è quella che impiega più giocatori italiani, lei che è un uomo di esperienza non è meravigliato dal fatto che nessuno sia stato convocato in nazionale? Beh no, ci sono molti italiani, molti sono giovani, Spalletti può scegliere per cercare perché è un più difficile di tutti noi italiani, per cui sicuramente guarda anche ai giocatori del Monza, magari questa volta non ha pensato o non ha voluto prendere i giocatori del Monza, però dobbiamo avere fiducia nel nostro commissario tecnico. L'ultima, grazie. Certo Antonio di Monza News, quanto conta la sosta da questo momento e poi se non è stato un po' tardivo magari l'ingresso di Viola che comunque ha fatto una buona parte di stagione? Sì, sempre così, quando riesce a essere tardivo perché è rilevato questo, sono cose che succedono. La prima domanda era quanto la sosta, beh certo che viene a fagiolo a noi perché con tre infortunati forse li recuperiamo. Buonasera, grazie. 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 Grazie.